Uruguay e Unione Europea presiederanno giovedì 7 febbraio l'incontro inaugurale del gruppo di contatto internazionale sul Venezuela. All'appuntamento di Montevideo parteciperà anche l'Italia, rappresentata dal Ministro degli Affari Esteri Enzo Moavero Milanesi. Il pentastellato di Battista insiste su Facebook invocando l'articolo 11 della Costituzione e ironizzando sul rapporto tra democrazia e petrolio. Dall'altra parte, un Matteo Salvini interventista ribadisce la sua definizione di Maduro dittatore rosso da togliere di mezzo. Ma il mandato di Maduro non è affatto terminato, dunque predica ingerenza dall'esterno. Intanto i media continuano, con un'anime omertà, a tacere sulle sanzioni che USA ed Europa infliggono al Venezuela per metterlo in ginocchio. Gravi sono le conseguenze sulle importazioni di cibo e di medicinali per la popolazione. Le esportazioni di greggio venezuelano stanno calando bruscamente proprio per le sanzioni americane. Lo scrive perfino il Wall Street Journal. Il presidente Mattarella entra in campo, sollecitando il governo italiano a prendere posizione a favore di Guaidò senza incertezza né esitazioni. Bisogna assumere una linea condivisa con i partner europei. Palazzo Chigi, in una notta, chiede lezioni rapide. Posizione pilatesca e genericamente umanitaria che prelude a un cedimento. Il gruppo di Lima, intanto, riunitosi ieri in Canada, ha esortato l'esercito venezuelano a sostenere Guaidò. Non hanno potuto assistere all'incontro le agenzie di stampa russe Sputnik e Ria Novasti e l'emittente televisiva venezuelana Telesur, cui è stato negato l'accreditamento. Maduro, da parte sua, ha spedito una lettera a Papa Francesco, chiedendogli assistenza per facilitare e rafforzare il dialogo. Mentre alle minacce di guerra del presidente americano Donald Trump ha risposto così. Nel ventunesimo secolo è una pazzia parlare di guerra. È una pazzia, signor Trump, pensare di poter mandare delle truppe qui, su questa terra, che si difenderà. La Russia ha testato una nuova arma, in grado di provocare allucinazioni e disturbi visivi transitori al nemico. La sua installazione sulle navi della Marina Militare russa è già iniziata, ha annunciato l'azienda statale russa Rostec. Si tratta dell'apparato di interferenza ottica 5P42 Feeling, progettato per abbagliare i sistemi ottici ed elettroottici del nemico ed altri strumenti di visione notturna. I volontari che lo hanno testato hanno riferito incapacità di effettuare tiri mirati con armi leggere, lamentando allucinazioni, capogiri e nausea, e manifestando segni di disorientamento spaziale. Il funzionamento dell'apparato si basa sulla modulazione della luce. Il prossimo summit del gruppo di Vischegrad si svolgerà il 18 e 19 febbraio a Gerusalemme, preceduto da un incontro tra Premier a Bratislava, cui parteciperà anche la cancelliera tedesca Angela Merkel. Inusuale la scelta di Israele come venue del summit, considerato che dall'istituzione del gruppo nel 1991 i suoi membri non si sono mai riuniti in un paese esterno. Secondo gli osservatori si tratterebbe di un segnale forte rivolto a Bruxelles, di cui Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria non condividono le politiche su tutta una serie di questioni, dai rapporti con Israele al nodo migranti. Israele ospiterà il vertice dell'emergente blocco nazionalista dell'Europa, titolava il 28 gennaio scorso il quotidiano israeliano Haaretz, con molti interrogativi. Israele è amica o nemica dell'Europa? E di quale Europa? Nel frattempo, nella quinta riunione ministeriale tra l'Unione Europea e la Lega dei Paesi Arabi, tenutasi ieri a Bruxelles, i partecipanti hanno concordato che Gerusalemme deve essere la futura capitale sia di Israele sia della Palestina. Il capo della diplomazia europea Federica Mogherini ha riferito una comunanza di vedute sul 95% delle questioni, tra cui appunto anche l'assoluzione dei due stati. Lo Stato di Israele ha avviato la costruzione di una recinzione intelligente in acciaio zincato al confine con la striscia di Gaza. Secondo il premier Benjamin Netanyahu impedirà ai terroristi l'accesso nel territorio israeliano. Alta 6 metri e lunga 65 chilometri collegherà la nuova barriera marittima al largo di Sikkim Beach, nel nord del paese, al valico di Kerem Shalom, nel sud, andando a sostituire la rete metallica attualmente in uso, rivelatasi vulnerabile ai regolari tentativi di sfondamento. La nuova recinzione rappresenta la parte fuoriterra della barriera sotterranea di Israele, dotata di un sistema avanzato di sensori e di dispositivi di monitoraggio per la rilevazione di tunnel. Nel frattempo, la recinzione lungo il confine egiziano, simile a quella che sarà costruita lungo il confine con la striscia di Gaza, ha bloccato quasi completamente l'ingresso in Israele di migranti illegali provenienti dall'Africa. La striscia di Gaza, con i suoi 2 milioni di abitanti, è sotto embargo dal 2007. Ora Israele ne completerà la trasformazione in ghetto.